Al Biotech Future, al MIND di Milano, le biotecnologie incontrano gli studenti. Artefice principale di questo incontro è Asso Biotech, organismo del quale abbiamo con noi il presidente Fabrizio Greco, che ha fatto un intervento di apertura nel quale ha messo in luce il fatto che parlare di biotecnologie nelle loro varie declinazioni significa parlare di sistema paese, cioè di ricerca, di innovazione, di un sistema paese che si sviluppa e cresce a livello economico e a livello di conoscenze, ma significa anche parlare di una sfida globale che riguarda l'Europa con competitors agguerritissimi e anche molto più avanti di noi. È così, presidente? Effettivamente è così. Le biotecnologie sono tecnologie abilitanti che possono essere utilizzate in vari settori. Noi le conosciamo per l'area della salute, dove quasi la metà dei farmaci ormai sono biotecnologici, ma sono tecnologie applicate anche nell'agricoltura, nell'ambiente, nell'industria e ormai tutti i paesi si sono resi conto del potenziale di queste tecnologie in tutti questi settori. Altri paesi hanno cominciato a lavorarci prima, quindi hanno creato le competenze giuste all'interno dei propri paesi, quindi formazione dei giovani, ricerca, trasferimento tecnologico, il modo in cui i giovani riescono lentamente a sviluppare le proprie idee e a farle diventare soluzioni. Diciamo che il percorso è complicato e coinvolge tanti passi diversi, ne ho menzionati alcuni, la formazione, dobbiamo avere tanti giovani con le competenze giuste, dobbiamo avere risorse e posti dove fare ricerca, dobbiamo avere la capacità di trasformare queste idee in qualcosa di industrializzabile, dobbiamo avere la possibilità di accogliere le start up e farle crescere. Quindi ci sono tante aree su cui dobbiamo intervenire. In Italia abbiamo molte competenze, ma non abbiamo un percorso omogeneo che possa consentire all'idea di diventare una soluzione. Quello che dobbiamo cominciare a fare è affrontare i singoli capitoli e provare a togliere quegli ostacoli, sciogliere quei nodi che oggi non ci consentono ancora di essere competitivi in una delle aree che avrà più sviluppo, diciamo, l'Unione Europea dice nel prossimo secolo. Quindi le biotecnologie sono una delle aree più promettenti del prossimo secolo, di questo secolo, lo ha detto a fine marzo l'Unione Europea, la Commissione Europea e quindi probabilmente dobbiamo un po' accelerare il nostro percorso per non rimanere indietro rispetto agli altri paesi. Per chiudere, un consiglio da rivolgere agli studenti, ai neolaureati che si avvicinano a questo mondo. Mi rendo conto che in poche parole è difficile, però lei forse è la persona più qualificata per dare. Ho provato a farlo in chiusura della mattinata. Innanzitutto chi è nell'area delle biotecnologie è sicuramente nel posto giusto per trovare alcuni degli ingredienti per definire il proprio percorso. L'altro pezzo è capire che cosa alle persone o una persona piace fare e che cosa quella persona è brava a fare. Dobbiamo essere in grado di capire quel confine tra ciò che ci piace e ciò che siamo bravi e se è nel campo delle biotecnologie probabilmente avremo uno spazio per poterci gratificare e quindi per i giovani è particolarmente importante per decidere il loro futuro. Grazie Presidente. Grazie.